Questa è proprio da raccontare. Con i guarini si dà un gol pazzesco, in questione provata e riprovata in allenamento. È arrivato il mister. Ciao Roberto, questa la racconto a voi che siete la TV di famiglia. Nell'ultimo allenamento questa mattina Antonio non aveva azzeccato un cross. Dai, dai, dai Antonio, dai. Dai Anto, puoi fare molto meglio, molto meglio. Tranquillo, tranquillo mister, adesso la metto dove dici tu. Poi siamo arrivati qui questa sera. Io sapevo che sarebbe andato tutto bene. E tu pensi di conoscere l'Inter meglio di noi? Inter Channel ti sfida. Entra nella competizione per vincere abbonamenti allo stadio, una crociera per due persone e molto di più. 105 Inter, la sfida ha inizio.